Buonasera, eccoci qui con l'ultima edizione del nostro telegiornale. Apriamo con quella che di fatto è una mini crisi diplomatica fra Italia e Turchia. Il presidente turco Erdogan ha rotto il silenzio dopo sei giorni e ha replicato a Mario Draghi che una settimana fa lo aveva criticato dopo lo sgarbo istituzionale a Ursula von der Leyen Io un dittatore, la dichiarazione del premier italiano, ha detto Erdogan, è stata di una totale maleducazione. Il presidente turco ha inoltre sottolineato che Draghi, nominato non eletto, ha anche danneggiato le relazioni tra i due paesi. Taip Erdogan interrompe la settimana di silenzio e attacca diretto Mario Draghi proprio il giorno dopo le scuse e l'assunzione di responsabilità dell'incidente di Ankara da parte del capo del Consiglio europeo Michel. Anche la stessa, presidente della commissione von der Leyen, rimasta in piedi al fatidico incontro diplomatico ad Ankara del 7 aprile, aveva sollevato la presidenza turca da ogni colpa. L'episodio imbarazzante è stato provocato insomma dallo staff organizzativo europeo, da qui dunque l'attacco pesante a Draghi, che commentando a caldo l'accaduto aveva definito Erdogan un dittatore. Il premier italiano è stato totalmente maleducato, ha detto il presidente turco, parla di dittatura senza conoscere nemmeno la sua di storia. Lui è stato nominato in carica, non eletto dal popolo, come me. Erdogan è intervenuto in un contesto particolare rispondendo alle domande di un gruppo di giovani incontrati nella sua residenza. Con l'impertinenza delle sue affermazioni Draghi ha purtroppo danneggiato lo sviluppo delle relazioni con l'Italia, ha concluso. A parte le proteste e le richieste di scuse del Ministero degli Esteri, il governo di Ankara non ha però finora compiuto passi ufficiali. E anche Palazzo Chigi per ora ha scelto la linea del silenzio. I rischi di possibili ripercussioni nelle relazioni bilaterali sono in ogni caso reali. Prima della pandemia l'interscambio commerciale toccava i 18 miliardi di dollari. Alcune importanti commesse nel settore della difesa potrebbero già essere sospese, ma le imprese italiane attive in Turchia operano dai macchinari industriali alla chimica all'alimentare, come Barilla e Ferrero. Sul piano geopolitico poi c'è lo scenario della crisi libica, dove Roma ed Ankara puntano entrambi ad assicurarsi un ruolo chiave nella ricostruzione del paese. Oggi più che mai sto con il Presidente Draghi. La democrazia, la libertà, l'Occidente ha risposto ad Erdogan con un tweet il leader della Lega Salvini. Per la responsabile Esteri del PD Quartapelle sono anni che l'atteggiamento del Presidente turco allontana la nazione dai partner strategici. E secondo Fratoianni di Leu, Erdogan che dà lezioni di educazione è davvero un caso esilarante. Le truppe italiane lasceranno l'Afghanistan a partire dal primo maggio. L'annuncio è arrivato questa sera dal Ministro degli Esteri Di Maio dopo il vertice nato a Bruxelles. Oggi c'è raggiunta una decisione storica, ha detto Di Maio. Dal primo maggio inizierà il ritiro delle truppe dell'Alleanza Atlantica e quindi anche quelle italiane da quel paese. Il Ministro ha ringraziato i soldati italiani e tutti i soldati alleati impegnati per 20 anni sul territorio afgano. Un'operazione che dovrebbe concludersi entro una data iconica, l'11 settembre, che ricorda l'attacco alle torri gemelle. Per la politica le tensioni nella maggioranza si concentrano sul tema riaperture. Il PD fa quadrato attorno a Speranza dopo gli attacchi della centrodestra con Letta che dice il Ministro della Salute. Non si tocca. La spinosa questione delle riaperture resta al centro dell'attenzione del dibattito politico. E a quanto si apprende da fonti di maggioranza, molto probabilmente venerdì ci sarà una riunione della cosiddetta cabina di regia che dovrebbe appunto iniziare ad affrontare un nuovo piano per l'allentamento graduale delle misure a partire da maggio. Resta forte infatti la pressione dei partiti di centrodestra e delle regioni sul governo perché si proceda ad una rivalutazione dei provvedimenti in senso più permissivo. Lo stesso tema sarà affrontato anche nella conferenza Stato-Regione in programma per domani. Il Ministro Speranzo intanto sotto attacco nei giorni scorsi per la sua linea rigorista incassa il sostegno di PD e Movimento 5 Stelle che si somma alla fiducia del premio ribadita la settimana scorsa. Ma se sulla difesa politica per il Partito Democratico non ci sono dubbi, sulla linea rigorista di Speranza la posizione è un'altra. Non siamo appiattiti sulla linea delle chiusure, vogliamo riaprire in sicurezza, progettare le riaperture, spiegano voci vicino al segretario. L'obiettivo è di non lasciare nelle mani di Salvini la bandiera della battaglia per l'ammorbidimento delle misure. Il segretario della Lega però ora usa toni più morbidi verso Speranza e dice non voglio le dimissioni, mi interessa che funzioni la squadra, mi interessa correre sui vaccini. In questo senso aiuta anche la decisione del governo di due giorni fa, che autorizza la presenza del pubblico, seppur solo al 25% della capienza, nelle quattro partite dell'Italia per il campionato europeo di calcio allo Stadio Olimpico di Roma. I dati della pandemia intanto dicono che i contagi sono risaliti, più di 16.000 oggi con il tasso di positività al 4,8% e un numero di vittime sempre altissimo, 469. Il virus continua a provocare vittime e nuovi casi. La pandemia in Italia mostra ancora i numeri di una costante e drammatica emergenza. Anche l'ultimo bollettino quotidiano segna quasi 500 vittime in un giorno, un numero altissimo che non ha, è uguali nel resto d'Europa. I nuovi casi sono oltre 16.000 a fronte di quasi 335.000 tamponi effettuati. Il tasso di positività è salito di quasi mezzo punto percentuale, al 4,8%. I dati trasmessi dalle strutture sanitarie indicano una diminuzione dei posti letto occupati in terapia intensiva, meno 36, così come una consistente diminuzione del numero di pazienti ricoverati nei reparti covid ordinari. Le regioni con più casi sono Campania e Lombardia con oltre 2.000 contagi. Preoccupa anche la continua crescita di nuovi positivi in Sicilia, oltre 1.500, un terzo solo a Palermo, da giorni già zona rossa. Il governatore Musumeci ha firmato una nuova ordinanza che istituisce altre 4 zone rosse in altrettanti comuni dell'isola. Lo stesso governatore siciliano ha indetto per venerdì un open day della vaccinazione per utilizzare 100.000 dosi di AstraZeneca rimaste in frigo per le rinunce di chi avrebbe diritto a vaccinarsi. Ma gli ostacoli sul cammino della campagna vaccinale sono sempre più numerosi. Il commissario per l'emergenza Figliuolo ha annunciato l'arrivo entro giugno di 7 milioni di dosi Pfizer in più rispetto a quanto previsto. Nelle ultime ore ne sono arrivate un milione e mezzo già in distribuzione verso le regioni. A larghissima maggioranza via libera del Senato per la cittadinanza italiana Patrick Zaki e lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna è in prigione al Cairo dal 7 febbraio 2020 in attesa di un processo. Nella mozione votata in aula si chiede anche al governo di intervenire sul caso con le autorità egiziane. Intanto si registra una clamorosa svolta nelle indagini della Procura di Roma sul sequestro e l'uccisione di Giulio Regeni. Gli 007 egiziani pianificarono il depistaggio di una finta rapina prima che fosse ritrovato il cadavere del ricercatore friulano. Lo hanno rivelato tre testimoni agli inquirenti italiani. Un ulteriore tassello che mette sotto accusa quattro ufficiali egiziani che saranno processati in contumacia fra due settimane l'udienza preliminare. E per il calcio Real Madrid e Manchester City sono le altre due semifinaliste di Champions League. Il Real 0-0 a Liverpool dopo il 3-1 dell'andata sfiderà il Chelsea mentre il City che ha nuovamente battuto il Borussia Dortmund per 2-1 se la vedrà con il Paris Saint-Germain. E domani sera in campo la Roma che affronterà l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. L'Olimpico e i giallorossi partiranno dal 2-1 e rimonta conquistato giovedì scorso in Olanda. Ad oggi è la partita più importante della stagione. Non possiamo sbagliare, avverte il tecnico Fonseca che cambierà otto giocatori rispetto alla gara di domenica con il Bologna. La Roma passerà il turno con la vittoria, il pareggio e anche con un'eventuale sconfitta per 1-0. È tutto, grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento.